Simone Giallorenzi ospite di casa chi, oltre a Francesco Oppini. Ha parlato della moglie Stefania, Orlando, e la strategia di gioco di Diane Mello al grande fratello VIP. Finalmente si sta vedendo chi è la vera stratega della casa, Diane Mello. E continua, voi sapete che io l'adoro? Il mio amore è smisurato proprio per questa persona. Lunedì sera ha fatto un gesto umanamente brutto comportandosi così con Rosalinda. Poco prima aveva detto una cosa bellissima e immediatamente dopo le ha segato le gambe in maniera clamorosa. Mi stupisce come i telespettatori possano sopportare una persona così. Sia Francesco Oppini che il marito di Stefania, Orlando, non hanno minimamente gradito l'atteggiamento di Diane Mello nei confronti di Rosalinda. Voi cosa ne pensate? Secondo voi è vero che con questo gesto Diane si è scoperta? Ha mostrato a tutto il pubblico di essere falsa? Quando lo fece Tommaso con Stefania, fu così duramente criticato? Scrivetelo nei commenti.